benvenuti sul canale, oggi vi beccate un get ready with me con questa faccita truccata perché non mi volevo spaventare perdonatemi per la mano, capirete perché, capirete perché, non fate domande siamo qui per parlare un po', truccarci, vi farò vedere un po' quello che io utilizzo ogni santo giorno tralasciando il rossetto che cambia ogni 5 minuti che scherzo vi spiego anche perché mi sono truccata perché il 30 aprile non devo fare nulla bugia, devo fare un sacco di video mi ha chiamato anche il Corriere quindi vorrei anche ritirare dei pacchi quindi iniziamo subito premessa prendete i vostri figli fateli scappare mandateli in Inghilterra ma vi prego non fateli vedere questo video 3 3 2 1 iniziamo benvenuti nel disagio non mi spaventate per la mia faccia un po' un po' brubriosa facciamo subito una base perché qua ne abbiamo bisogno ma prima mi metto un attimo questo olio perché dovete sapere che di base ho la pelle mista secca in questo periodo molto secca e ho provato già da ieri oggi il secondo giorno questo olietto se non si capisce niente della Wicon che è Golden Oil Potion ed è un olietto che cioè lo fa al suo anche perché è fighissimo è stato basta e però vi sporcate tantissimo io meno male che sto colpiciamo ok Get Ready quindi prima volta non so come verrà quindi siate clementi con me lo so che non è uno spettacolo bellissimo no scusate ho visto un po' di messaggi perché sto registrando con il telefonino allora ci siamo fondotinta io utilizzo quello di Catrice HD Liquid Coverage sto quasi finando quindi lo finiamo prima che arriva l'estate perché non lo posso più utilizzare il colore 010 Light Beige con questo pennello della Kiko tipo che era una collezione sul San Valentino c'è il contino stendiamo subito il fondotinta stop il video lo riapro e parliamo un po' di argomenti seri quando il fondotinta sta finendo e quindi tu devi utilizzare in maniera più barbare per utilizzarlo è liquidissimo quindi non ne voglio assai cioè faccio pietà però devo fare dei video quindi va bene così va bene nel frattempo che lo stanno parliamo un po' allora domanda che cosa sto facendo allora mi sto truccando un po' da meno peggio perché devo girare i video con gli outfit con i capi che sono in vendita qui non sapete di cosa parlo andate su Instagram vi invito perché sotto trovate tutti i dati nell'info box trovate il mio canale Instagram dove nelle stories e nelle stories in evidenza trovate tutti i capi che ho messo in vendita questo fondotinta non è molto coprente però lo sto stendendo un po' alla meno peggio premessa non sono makeup artist quindi non mi reputo tale va bene così perché non si spiega mai in inglese diciamo che mi trucco così ho un po' solo e allora oggi voi cioè vedrete questo video effettivamente il primo maggio quindi a tutti gli auguri io lo sto registrando il 3 aprile perdonatemi se guardo di lì perché ancora non ho capito bene dove devo guardare siccome ancora a momento gestisco tutto dal telefono fino a quando non risolvo questo problema con la reflex dovete appiopparvi una palma che guarda male mamma che occhiaio allora dove ci troviamo ci troviamo sul diciamo sulla mia finestra perché io mi trucco la luce del sole non mi piace truccarmi in bagno perché non mi rendo conto se mi faccio un mascherona più o meno basta e quindi un trucco so ovvio fa benissimo lo vedete un po' più chiaro ma si deve un ottimo ossidare correttori il mio correttore è l'Instant Anti-Age vabbè questo non ha bisogno di presentazioni e siccome è molto molto bianco non so perché questa colorazione l'Ivory me la ricordavo un po' più scura ho preso questo qua della Wicom che si chiama Love of My Life ed è il Love Cover 01 Beige penso che sia stata qualche collezione tipo di San Valentino mi stavo dicendo voi questo video lo vedete il primo maggio quindi ufficialmente sarà adottato il nuovo nome del profilo il nuovo nome del profilo vabbè forse lo diciamo dopo ma anche se voi già lo sapete più che altro mi faceva piacere raccontare un po' perché di questo nome allora che cosa sto facendo me lo sto servendo sulla mano perché sennò sugli occhi non è molto professionale ehm vedo qualcosa io lo faccio generalmente con le mani però facciamo un po' più professional e vabbè lo diciamo subito dai diciamo subito allora il nome è l'avete già visto sul profilo quindi vi invito ad andare a vedere per scoprire perché ci sarà anche appunto un post dedicato ehm perché cambiare nome perché per un discorso di comodità un modo per distinguersi e il tutto è nato durante una live appunto se non mi seguite non sapete di cosa sto parlando ehm la settimana scorsa se non sbaglio ho fatto una live e chiacchierando con le ragazze uscì ehm riferimento appunto a ehm il discorso di prendersi ehm un tè un caffè e un mojito mi fate morire comunque e quindi mi è nata questa idea di cambiare il nome e di chiamarlo appunto un tè con la fami ecco perché diciamo e rimane ehm vicino alle amiche del tè però molto più personale la domanda è verrà cambiato il nome del blog? no quindi sia per quanto riguarda l'email non so ovviamente non non ho softbox o cose molto professionali quindi il trucco è come ehm metto un attimo un po' di correttore su sugli occhi giusto perché non mi va di mettere nient'altro e se verrà cambiato il nome del blog? no ma l'avevo messo e perché il blog appunto nasce come piattaforma per tutte voi quindi il concept rimane le amiche del tè non c'è il mio nome non ci sarà perché io ok sono l'amministratrice ma sono parte integrante idem vale per il canale quindi qui non verrà cambiato il nome ehm ovviamente quando vedrete appunto il canale instagram sarà appunto dedicato alla mia pagina perché questa pagina ehm spero che evolvendosi a questo riscontro sarete voi a entrare in questo profilo che cosa facciamo? ora mettiamo un po' di cipria e usiamo quella di essence la bright n up la banana powder non c'è colorato ah si 10 baba baba banana chiacchi di noi va bene ehm con un pennello decino ice non ricordo è bello largo quindi la facciamo andare e ok la base l'ho completata sempre con lo stesso pennello mi vado a fare un po' di ehm tridimensionalità qui professionalità a palla e ehm la terra che si rigenera da sola è la banana mama no mi va bene perché costa un botto della Debalma e io avevo avuto tipo un buono da da limoni e mi sono comprata tipo un paio di questi prodotti della Debalma che mi va bene che si rigenera dalla notte comunque una terra estremamente conosciuta non vi sto dicendo nulla di che ah premesso io non sono un truccatore quindi sa che l'ho già detto mi trucco come mi trucco generalmente niente di più niente di meno ehm ovviamente voi vedete tutto appalificato perché non non c'è ehm non c'è una luce tale da camuffare i colori e sminuirli cioè come si amplificano ovviamente ehm quindi vi stiamo dicendo il fatto del del nome spero che vi piace se per questo lasciatemi un commentino se mi piace questa idea e eh da qui passiamo ad un altro argomento che ovviamente troverete anche nei titoli eh per quanto riguarda appunto il canale ci saranno delle modifiche eh anche ho studiato in questo periodo quindi ho scoperto anche un po' di metodi per ehm porsi su youtube metodi o diciamo iniziative da creare quindi piano piano si faranno tutte questa cosa è un po' così ma passiamo avanti parliamo del salone del libro ehm lo metto un po' sui occhi per stemperare un po' il bianchiccio del ciprio ci sarò non ci sarò ci sarò non ci sarò ragazzi no ci sarò purtroppo l'azienda non mi ha dato questa possibilità di prendermi le ferie purtroppo ci tenevo tantissimo ma sarà per l'anno prossimo mi dispiace proprio tanto ci tenevo ad andare anche per conoscere un paio delle ragazze però è la sua tante buona per conoscersi successivamente o almeno ma questo proprio io mi sono rifatta le nuove due palline e non si mantengono il piacere cipria ehm blush wacon ehm compact blush fardo e compatto un numero improponibile che noi non pronunceremo con lo stesso perchè a lavare tanti pennelli non ci va il colore è molto chiaro e si sto quasi finendo ehm mi dispiace parecchio che non riesco ad andare sinceramente perchè ci tenevo quest'anno ci tenevo perchè ho conosciuto un sacco di scrittori e di persone fantastiche che volevo conoscere di persona youtube mi dispiace però purtroppo purtroppo sono lavando da poco dove sono ora non mi posso cioè ci ho provato andiamo avanti trucco easy grazie alla chocolate bar di Too Faced mi vergogno tremendamente ad aprirla ma ehm io le cose le utilizzo fino a quando non sono finite oddio il macello che si chiede facciamo così e oddio facciamo così così facciamo prima ehm una palettina tipo sul nude molto bellina ci piace forse gli unici colori che non utilizzo sono queste due perchè il viola non lo uso e questo rosino tipo porcellino e9 pennello dell'essence questo è un pennello per il correttore non ci ho capito niente ma va bene prendiamo io non sono capace di fare queste cose questo marroncino e questo glitteroso allora questa palette è spacciata tipo da chiunque ma non scrivo una cippa ragazzi cioè diciamo che i colori marroncini sono tutti identici cioè boh non lo so io l'ho pure pagata a prezio cioè non capisco se è originale o no perchè non l'ho preso da sephora ma è un negozietto di cosmetici nella mia città che vende mesauda ma mica ho capito se è vera proviamo a fare così vediamo se si è meglio non lo so ragazzi e non lo scriverò anche polverosissima cioè nel senso poi dovete togliervi la polvere da sotto gli occhi che è rogna vedete è molto semplice mi sto mettendo solo un po' di marrone intorno intorno anche perchè ci sarà un rossetto importante quindi non mi importa di mettere tantissimo sugli occhi ehm però siccome io non butto cioè fino a che non utilizzo alla fine i colori mi vanno bene se era proprio colori estremamente estrosi non la utilizzavo la vendevo direttamente nuova senza toccarla invece comunque marroncini qualche champagnino si può fare quel minimo minimo di colore te lo danno ci rifare un botto di passate però va bene lo stesso tanto è che io non ce l'ho manco da un anno e cioè tipo l'ho già consumata il color champagne è tipo è stato forse è l'unico colore che è tipo il doppio però è quello che ho consumato di più bah 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 non capisco io forse non mi intendo di make up poi giriamo poi lo giriamo questo pennello tanto ormai alla casereccia vabbè se mi ci metto faccio cose un po' più strutturate il problema è che c'è il problema ho fatto l'artistico quindi la manualità ce l'ho però non mi va devo registrare dei video va bene molto easy giusto amplifico leggermente il colore con la parte più fine e prendo sempre questi due colori che fantasia e quindi vi dicevo che comunque non ci sarò al salone e mi dispiace tantissimo perché ci tenevo proprio ad andare quest'anno e anche perché ho una persona che poteva prospitare quindi mai una gioia e e niente voglio sapere se voi ci state se voi andrete appunto al salone che cosa andrete a vedere mandatemi qualche foto perché io tipo starò morendo che non potrò andarci che cosa triste ok finiamo gli occhi e poi continuiamo sotto agli occhi mi metto sotto la rima ciare inferiore penso questo si dica così bah ditemelo nei commenti ditemi qualche profilo canale che devo seguire che non sia cioè tipo niki tutorial un qualcosa proprio terra che posso seguire giusto per imparare le terminologie perché le so però non me le ricordo ok mi sto mettendo l'automatic eyeliner della wicon colore 113 brown non sembra una sponsorizzazione della wicon giuro ragazze le ho pagate queste cose facciamo come le beauty in guru tipo così ma non si vede ma va bene lo stesso ok non so se l'avete notato notati ho notato che ho gli occhi molto piccoli piccoli e un po' a palla quindi per ingrandirli tecnica imparata durante l'artistico se uscirà la batita è retraibile cosa fighissima mi disegno soltanto dall'inizio fino a qua premendo un po' di più qui e poi di meno cioè nel senso vediamo se si riesce tipo a fare un mezzo zoom proviamo questo trucchettino aiuta a oddio non so se si capisce a ingrandire un po' di più l'occhio ora lo faccio anche dall'altra parte non so se già vedete la differenza io la vedo sembra l'occhio un po' più grande e anche un pelo più sveglio questo trucchetto è stato forse quello che io faccio da sempre quando non voglio mettere l'eyeliner l'eyeliner proprio in penna e voglio sembrare un po' sveglia invece quello che ora faccio giusto per dare un po' di animo a questo trucco e mettere questa matita anche perché la devo finire perché è tipo annozzicona tipo non si legge più c'è scritto solo The Nudes Nudes della Maybelline colore 19 perli taupe ed è un colorino facciamo uno swatch facciamo tipo così dai che mi fa figa sta cosa si vede che si stanno andando alle cozze questo colore si vede proprio oddio non si vede la cippa è tipo brillantinoso non si vede forse sta riprendendo ma ok si vede è tipo taupe brillantino facciamo cadere tutto e lo faccio e lo metto pietà fanciulli pietà se ho iniziato da qui e sono andata in qua se ho iniziato una linea più spessa alla fine e sono andata un po' più sottile a metà ora coprirò tutto il restante con questo che alla fine è talmente leggero che non si vedrà però col fatto che è brillantinato aiuta a smorzare la linea di quel marrone e evitarti anche lo sbattimento di metterti il colore cioè nel senso l'ombretti colorati il fatto che ha queste mini mini pagliuzze dorate aiutano un po' a svegliare lo sguardo ecco perché già sta arrivando la fine dopo tipo un po' di tempo che prendevo solo mattite così ho cominciato a prendere solo quelle detraibili perchè mi scocciano questi muzzicoli perchè li perdo quindi lo sto cercando di consumare giusto per completare proprio questo look devo fare dei video e non voglio sembrare una pazza mi metto altro prodotto tipo della De Palma che la tengo tipo santino è l'illuminante merilu merilu maenheiser io pensavo che era più semplice pronunciare i nomi dei prodotti come ti chiami gioia? a me merilu ed è appunto un illuminante forse il più famoso tipo doratino che chiunque secondo me può utilizzare perchè per qualsiasi carnagione secondo me altro pennello che utilizzo questo è quello che comunque ho per illuminante che ho preferito investire una volta è buono è della Nabla non ricordo di quante collezioni fa ma secondo me un annetto forse probabile me lo metto giusto un pelo sulle guance forse è un po' più ormai per abitudine che lo faccio la vedo la differenza sembra un pochettino più sveglia poi è talmente soft questo illuminante che puoi stratificarlo quanto vuoi se vuoi sembrare una pala da disco basta leggermente inumidirlo e il gioco è fatto questo l'ho imparato in qualche tutorial me lo sento facciamoci queste peli che tipo non hanno più forma e mascara e mettiamo poi il rossetto dove sta? non lo trovo ok io non ho poche sopracciglia ma il problema è che siccome da giovane pinzettavo un bel po' sono un po' un po' redi quindi utilizzo questo crema per sopracciglia quanto odoro quando la c'è quale in italiano della Wicon ve l'ho detto è sponsorizzazione della Wicon a go go just me brown che ho visto ora che c'è in promo quindi ve li consiglio sarà che si sta indurando perchè si sta tipo spaccando vabbè è un gel ragazzi niente trascendentale e utilizzo l'essence il pennellino per l'eyeliner e ragazzi la linea permanente costa poco ed è buonissimo ne ho tre perchè così non devo lavare ogni santo giorno e una spazzolina dai cinesi si chiama melissa accessori un euro va benissimo e se si rompe nessun problema faccio le sopracciglia e torno ok fatto le ho fissate perchè io ho le sopracciglia anche ricce perchè non ci facciamo mancare nulla di che marca della Wicon voi direte perchè tutte queste cose della Wicon perchè nella mia città si è aperto ed è uno forse dei macchi dove le cose sono buone non costano tantissimo e fai bella figura mettiamola così ed è il fissatore per le sopracciglia è il brown fix & define trasparente e non ha colore ed è buono perchè le fissa senza sembrare batattose voi le vedete molto più forti ma è quasi il colore dei miei capelli metto il mascara e sto cercando di finire non tanto perchè non mi sia piaciuto più che altro perchè sta cominciando a diventare secco questo qua della Essence che è Lashes of the day Super Volume Mascara buono io non ho grandi pretese perchè ce l'ho piuttosto lunghe giusto per dare un po' di tridimensionalità e appunto siccome sta seccando e sta arrivando tipo all'acqua alla gola mi passo questo mascara che è tipo una vaghissima imitazione del Colossal della Maybelline ma è dei cinesi la cosa buona è che c'è un buon mascara inesistente tipo dentro è pieno cioè sento che è pieno ma non esce nulla però ha un bel pettinino con tanti piccoli dentini che ti separa bene quello che crea poi di Groomy Essence va bene cosa di cosa parliamo più? ok, visto che oggi è primo marzo con la scusante vediamo anche un po' di nozioni sulle prossime novità che cosa ho fatto? ho buttato un po' di eccesso perchè quando preleva si crea tipo il grumo davanti non so se lo sapete tanto a vedere sul blog da almeno un mesetto scrivono 4 fanciulle insieme a me 3 barra 4 perchè la quarta deve appunto essere ancora ufficializzata e a breve ci saranno le loro icone perchè non ci facciamo mancare nulla noi quindi verranno fatte delle icone personali ad ognuno di loro che rispecchiano appunto la loro personalità e diciamo arricchiscono anche la loro scheda tecnica perchè ci piace altra novità è appunto il cambio del nuova cambio di destinazione sembra e le nuove rubriche che usciranno piano piano alcune sono già uscite ho intenzione di fare alcuni video se riesco anche oggi cerco di fare il più possibile perchè ovviamente oggi ho giornata libera che poi dico non me lo potevate dare il 10 vabbè però purtroppo ci sono dei clienti e non se può e ci saranno diverse rubriche che devo con l'ascolta registrare che oggi ho un po' di tempo il lookbook fatto con capi che sono in vendita sul profilo che vi ho citato prima nuove rubriche appunto in merito ai libri di poesia che mi sono piaciuto nell'ultimo periodo vorrei fare il TBR se riesco ci stiamo lavorando alcuni book tag al quale partecipare e interviste anche a me perchè c'è chi mi vuole intervistare e e basta le persone queste ve le posso dire le altre me le tengo in camera tetasis ah non so se si pronuncia così ma non credo ragazzi a breve uscirà una iniziativa molto caruccia oddio qua si stanno attaccando come se non ci fossero domani uscirà anche il blog open cioè un giorno dove il blog sarà aperto a tutti vi specifico bene durante l'occasione perchè così non si capisce dove avete appunto l'opportunità di scrivere voi articoli che più argomento da qui taccuini così concludiamo bene questo look anche sotto diciamo che per quello che colora mi va bene anche sotto cioè diciamo che più che colora prende il grosso del mascara di prima va bene ci sta sono solo leggermente cioè si vede che sta seccando perchè perde anche un po' di di pezzetti di pezzetti ma per quanto costano le maschere di essence ce lo faccio mandare argomento taccuini argomento taccuini a brevissimo vi diciamo tappa alla volta creare una linea di taccuini che ho citato appunto nella live dove in uno sarete voi protagonisti e poi negli altri piano piano perchè saranno tante linee separate non voglio farli uscire insieme e spero di fare altre cose che ho già in mente spero anche di trovare qualcuno col quale collaborare perchè sto guardando qua mi devo mettere il rossetto e abbiamo finito disagio a parte perchè è arrivato un corriere e sono dovuta mandare la mia nonnina mi metto questo combo più che altro perchè voglio finire questo mancano tipo un paio di applicazioni e me lo voglio finire perchè sta cominciando a cambiare odore non ha manco tantissimo di 12 mesi un anno non ha però ci sta perchè è piccolo quindi apri chiudi apri quindi si è fatta aria e la combo è questa matita di che marca si gioia ok non si legge più c'è solo a fine scritto il numero 0 sì in verità c'è un loghino se mi aiutate a capire di che cos'è è tipo un rosso un po' borgogna che va quasi bene perchè questo è leggermente più marroncino una tinta della meat matte angus ad adoring anche questo della de palma erano tipo tanti piccoli campioncini e siccome odorava all'inizio di menta ma forte che a me piace e che mi è sempre piaciuta ora non lo sa più diciamo che sembra un po' di menta andata male quindi mi devo sbrigà a finirlo poi non manca tanto tipo giusto un paio di applicazioni cioè non sembra ma questo campioncino mi è durato quasi un anno fanciulli cioè trucchetto questo combo del rossetto rosso vi salverà tutti i look possibili e immaginabili perchè vi farà sembrare sempre faica potrebbe sembrare che c'è un faccione ok fermo grazie ok sicuramente me lo chiederete perchè mi riempie tutte le labbra perchè alcune tinte labbra hanno il problema che tipo non sono molto uniformi quindi per evitare ciò lo faccio a prescindere quindi come va va concludo sotto e ne parliamo ok diciamo che a me il rosso di questa tonalità cioè non troppo aranciato mi piace particolarmente ok stiamo quasi alla fine in verità ogni tanto sembra che si rigenera pure questo sì ma non mi sto convincendo più però giusto un altro paio di volte e poi basta ehm non so perchè sembra molto più scuro invece dalla realtà sembrano uguali c'è giusto un po' più marroncino questo ma ci fa più nello stesso perchè siccome io non sono una beauty guru i prodotti li pago e li finisco ecco al massimo se non mi piacciono ehm ok se sono colorazioni tipo ehm una persona mi regala un rosetto rosa sulle castagne rosa bambolino bambola non sta bene cioè almeno su di me non sta bene perchè io sono bianca sembro tipo una Barbie strana ehm e invece questi colori stanno bene in quel caso se una persona sbaglia dal mio regalo come o lo vado a cambiare se ho la possibilità oppure lo do a chi so che può star bene quel rossetto tipo avevo dei matitoni della Wicon per i miei standard e col fatto che io mi muovo tanto voglio un rossetto che tenga e tenga bene anche se bevo un caffè o una bottiglietta d'acqua non devo stare con l'ansia che mi devo andare a vedere le cose come stanno le labbra ho deciso poi di darle a mia nonna perchè so che sono matitoni tipo sul borgo sul rosa violaceo quindi sono le li piacciono sono facili se li mette quando vuole poi se li mette tante volte quindi sono sicura che vanno in buone mani oppure la mia cugina che so che determinati prodotti che ovviamente non può avere cioè non che non può avere non penso che le sappia usare in verità forse manco le sappia usare come le maschere P-off mi con mai capito come si utilizza non le so pronunciare vedete come le saper utilizzare ok basta aspettiamo che si asciuga allora io ora mi sono giusto un ottimo pulito i denti perchè ovviamente sono entrata un bel po' dentro però è semplice visto che questa mano sporca ve lo faccio vedere si fa e tutto il grosso va a finire subito quindi non mi sporca i denti però appena si asciuga questo rossetto rimane lì tipo non si spumove più io lo consiglio tantissimo mi sento una moto una beauty guru mi consiglio questo prodotto tipo ah 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 raga io molto alla giornata vado con i prodotti che mi vanno bene cioè nel senso che sono prestanti mi va bene ultima cosa più che altro perchè purtroppo quella cipra che utilizzo è molto polverosa e dovevo indossare i capi che poi devo mettere in vendita non voglio che si sporcano quindi mi sparafascio questo fissatore e magari fosse della smashbox è un fissatore che ho fatto io se poi vi fa piacere vi dico come funziona determinate cose me le faccio io tipo l'olio per capelli quelle cosine diciamo scrub quelle cose là me le faccio io perchè spendono un sacco di soldi non ne vale la pena quindi faccio utilizzo questo finto fissatore della smashbox questo qua beh il photo finish non ricordo perchè mi trovavo questo tipo che l'avevo trovato da qualche parte e avevo messo l'acqua forse dell'esate scorsa viene ma lo sono ritrovato e lo utilizzo perchè la fortuna vuole che ha un bel giattino un bel giatto omogeneo quindi facciamo come tutte le beauty guru ma perchè loro sembrano più fighe io sembro tipo una trans e ho parlato troppo breve ha cominciato a toppare oh raga che mi avete portato male va tipo a gocce la botta che ha avuto ora secondo me è la botta che ha avuto ora voi che dite? ok mi sento tipo come se bagnata dalla pioggia abbiamo finito e spero che vi siete divertite questo get ready with me con la un trucco molto easy seguitemi sui social e condividete questo video trash perchè il trash manda avanti il mondo e niente dalla vostra pami è tutto un bacione alla prossima senza transfer che cos'è questo? che mi sono toccata con il mascara le beauty guru avanti le beauty tipo delle povere beauty influencer dei poveri ma va bene quindi